Dopo oltre sei anni di chiusura, la Via dell'Amore, che per 850 metri corre nel patrimonio dell'UNESCO delle Cinque Terre tra Rio Maggiore e Manarola, rivede un obiettivo di apertura. Sindaco, primi sopralluoghi nei giorni scorsi? Sì, in questi giorni sono stati fatti i primi sopralluoghi e speriamo a breve di ricevere la bozza del progetto esecutivo. Chi paga? Abbiamo ottenuto dei importanti finanziamenti, sono 12 milioni, 7 milioni dal Ministero dei Beni Culturali, 3 milioni dal Ministero dell'Ambiente e 2 da Regione Liguria. Quando partiranno i lavori si può pensare? Auspico entro fine anno, una volta ricevuto il progetto esecutivo dovrà essere fatta la gara per giudicare i lavori. Obiettivo temporale per rivederla aperta questa cancellata? Io spero entro il 2020. C'è un altro problema qua che riguarda quella che voi definite una vera e propria invasione di turisti, sono 3 milioni ogni anno che comportano anche problemi di sicurezza. Lei cosa chiede per la nuova stagione? Chiedo un tavolo politico al quale far sedere tutti i vettori, tutti coloro che sono interessati e investono nel turismo nelle 5 terre. Dobbiamo coordinare gli arrivi, attuare una pianificazione e soprattutto partire dalla conoscenza dei dati. Quante persone oggi sono scese a Rio Maggiore dal treno, per esempio, noi non lo sappiamo. Quindi per poter coordinare le attività e anche la sicurezza, questo è un dato fondamentale. Quindi partiamo dalla conoscenza dei dati. Ma lei al numero chiuso dice sì o no? Numero chiuso no, noi accogliamo i turisti ma lo dobbiamo fare nel migliore dei modi, distribuendoli nello spazio e nel tempo del nostro territorio. Grazie a tutti.